Ciao a tutti ragazzi sono Omega e oggi siamo tornati qui con un nuovo video su Fortnite ma non un video normale ma un video particolare perché prima di tutto è uscito il pass battaglia della stagione 5 che tutti vogliamo vedere che farò comprare a una persona particolare a me Antonio che tu ragazzi sarebbe nonno però da adesso siccome il mio nome diciamo è Omega gli altri mi chiamano Omega ora tu sei nonno Omega ah nonno Omega esatto Omega Omega come papà ha capito lui insomma quindi adesso praticamente dobbiamo spendere 150 euro per un gioco ti sembra normale? beh insomma se vale la cantina se la spesa vale la cantina sì io ti darò il joystick ti farò premere dei tasti e dobbiamo comprare praticamente compreremo tutto tutto quanto quello che vogliamo esatto quello che vogliamo compreremo tutto il pass battaglia quindi compreremo tutte le skin tutti gli ombrelli perché ci sono anche degli ombrelli delle mazze cioè ci sono un bel po' di cose infatti in questo gioco si spara qui si sparano le persone capito? vabbè faccio fatto esatto vabbè quindi ragazzi mi raccomando un bel mi piace di lasciare un mi piace al video esatto esatto iscrivetevi al canale se volete altri video con nonno Omega sia su GTA o dove altro vi pare quindi direi che possiamo iniziare iniziamo? iniziamo ok iniziamo ok allora ci siamo come vedete siamo nella lobby di Fortnite del pass battaglia stagione 5 compreremo tutto quanto è il pass battaglia lo comprerà lui come prima cosa e poi vedremo un po' la parte di mappa che è cambiata tutto il resto allora adesso devi andare qui dove dice negozio primi questo tasto qui questo no questo qua di su questo qua di su vai vai questo tasto qui adesso quadrato ok adesso praticamente diciamo che si sta collegando la mia carta di credito e lui si prenderà i soldi per darci tutte tutte le diciamo tutti i personaggi tutti quegli omini pazzi che abbiamo visto prima diciamo in sintesi ok ora qui esce la schermata ora devi premere questo ok vedi dice te lo leggo io perché ragazzi lui non vede bene quindi ti leggo io c'è scritto grazie l'acquisto è stato completato ma quelli sono soldati si sono soldati pazzi che ora devi premere questo tasto qui questo si bravo fai x questa qui questo bravo fai di nuovo questo questo qui una volta devi premere ok e abbiamo acquistato vedi mo escono tutte le animazioni perché abbiamo comprato i primi ok vai primi questo questo si vai di nuovo di nuovo di nuovo di nuovo e di nuovo abbiamo sbloccato questa donna qui abbiamo acquistato abbiamo comprato questa donna è una vichinga questo è una vichinga bravo prima abbiamo comprato questo che sembra sei quei di tipi che vanno sullo skate le cose non so come si chiamano che si chiama skate vai vai continui a premere quel tasto vai vai premilo tante volte vai un'altra volta abbiamo sbloccato un semaforo non so cosa serve ok fai di nuovo quel tasto allora adesso diciamo che abbiamo comprato sei livelli che costano più o meno 5 euro quindi ma dobbiamo comprarne altri 94 che e dobbiamo aggiungere altri soldi quindi ora di nuovo premi questo tasto qui questo di sopra no no questo di sopra questo questo no vai 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 ancora stai sbagliato vai premilo premilo ancora premilo ancora premilo ancora ok vedi ora no no qua qua ora praticamente dobbiamo ricomprare la stessa somma cioè 10.000 a 100 euro quindi vai qui con la freccia con questa qui con questa freccia questa freccina qui vai 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 ok fai il tasto questo di nuovo qua del tasto per confermare gli acquisti ma di nuovo questo tasto qui che confermiamo ok vedi ma sto facendo di nuovo come prima stai caricando perché dalla carta di credito sti infatti prendono i miei soldi si prendono i soldi come faceva a berlusconi tanti anni ok vai premilo questa tasta per confermare bene allora come vedete stiamo aggiungendo praticamente 100 euro al portafoglio e dice anche di nuovo la stessa cosa di prima grazie l'acquisto è stato completato e vedi qui sono aumentati spropositamente i soldi qui ci sono un numero di soldi che sono aumentati quindi adesso compreremo continueremo a comprare finché non avremo tutto il pass battaglia ok allora adesso premi di nuovo questo tasto quadrato e premi questa freccetta no 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 una volta devi prendere mi avevo comprato 7 livelli ok ma premi questa freccetta verso lì ah vai ancora ancora vedi dice 10 livelli 11 12 qui c'è il contatore che sta aumentando pian piano poi devi devi continuare a premere finché raggiungiamo 14.000 fino a mo stiamo a 3.000 e 4.000 quindi devi continuare a cioè se noi stiamo buttando i soldi su sto gioco vedi abbiamo prima comprato una palla da calcio vabbè continua a premere col tasto vai vai fino a mo abbiamo comprato 43 livelli siamo quasi arrivati a 100 poi che arriviamo a 100 vedi lì c'è uno scudo poi è un cambio del gelato una palla da tennis alberi alberi balli poi ti farò vedere anche i balli se ti piacciono la gente che balli si si mi piace va va continua ancora che ci siamo quasi 1 siamo a 63 63 livelli acquistati ci siamo quasi farai non fa più ok perchè mo dobbiamo prendere quindi abbiamo comprato non ho fatto i livelli ora apriamo questo tasto qui e compriamo tutti i livelli che abbiamo fatto fino a mo ok una volta una volta vedi mo abbiamo guarda che cazzuto questo guarda guarda quanto è cazzuto questo è un vichingo con la barba si tu vorresti avere la barba blu la barba blu non la vedi ah non la vedi guarda questo c'ha pure un teschio in testa hai visto quanto è cazzuto è forte secondo te ok allora mo io ti faccio vedere come vedete ragazzi i vbucks ci sono anche avanzati perché abbiamo shoppato tutto il guerriero finale si chiama ragnarok che vabbè è anche nella c'è anche nelle leggende viching c'è questo guerriero che si chiama ragnarok allora come vedete abbiamo comprato praticamente tutto il pass battaglia con i balli ma vediamo andiamo in tutto prima tutto nell'armadietto vedi 1 abbiamo comprato tutte tutte queste abbiamo preso vabbè alcune ce le avevo già no ti piace questa ragazza i capelli verdi se c'è un bel culetto e voglia vabbè abbiamo comprato questa acqua questa quella banca è una bagnina vabbè allora ora scegline uno a caso quale ti piace di più prendiamo un uomo una donna prendiamo una donna una donna ok allora prendiamo una donna diciamo più bella brava possiamo prendere la bagnina la bagnina e poi prendiamo il vikingo ok ci sono abbiamo sblocato anche tante altre cose i balli i costumi vedi qui ci sono le borse vedi questo c'è un gonfiabile sai cosa è un gonfiabile il canotto dell'unicorno attaccato dietro la schiena e poi vabbè qui ci sono i zaini e qui c'è una lente di ingrandimento praticamente qui ci sono sai i boscaioli che spaccano gli alberi ecco qui si spaccano gli alberi con le asce e con altri attrezzi strani tipo vedi questo è un non so un dildo sarà non so che cosa sia sinceramente un'ascia un'ascia di una vabbè dai mettiamo qua ti piace questa quella o quale ti piace di questo passo ma non vedi che va bene mettiamo questa che è bene e poi qui c'è il paracadute qui c'è un paracadute che è un gonfiabile poi c'è un paracadute che è un abbiamo comprati questi abbiamo comprati tutti questo è un paracadute con un cavallo di legno è bello è bello allora quale mettiamo quello con la piscina cioè quello col gonfiabile quello col cavallo è meglio quanto cavallo e andiamo col cavallo di che abbiamo diciamo ci sono delle scie cioè quasi buttano da un autobus questi pazzi si buttano da un autobus nel cielo dal cielo si buttano in un autobus si aprono il paracadute mentre cadono ci sono delle scie a te quale ti piace di più quella con i cuori col ghiaccio con le fiamme oppure se vuoi c'è quello con la cartigenica cioè scendo la cartigenica dalle mani mettiamo quella cartigenica mettiamo quella cartigenica è più caratteristica è più caratteristica ok vabbè poi qui ci sono gli sfondi quando si muove a te si vede che sta ballando si sta muovendo ok dai mettiamo questo ti piace sto ballo bello bello si ok alla veniva poi ce ne stanno altri vediamo questo che fa che sta dicendo che sei malato perché fa il segno sei malato sei scemo e questo ballo ti piace ma insomma può andare può andare può andare ok equipaggiamo anche sto ballo allora tu puoi parlare io ti sento anche se ho questo sì sì anche a tu dimmi e visto questo che sorridi ciao ciao una zucca al posto della testa quello lo vedo è fatto gli occhi se c'ha gli occhi e c'ha una bocca grande che c'ha il culetto bello che sculetta mentre cammina e comunque la mappa è cambiata perché prima non era questi piano e andare qui dove sta questa diciamo è la parte nuova che prima non c'era andiamo qui a me mi piacciono veramente i film del western infatti questa c'è una parte se non sbaglio che è del western cioè questo vedi qui è il deserto che ricorda tanto il far west infatti l'hanno fatta apposta poi c'è una parte egiziana ci sono è un po' quando vedi i film western lì mi fermo mi piace vederli infatti vedi l'ambientazione vedi ci sono i cactus ci sono le piante c'è il deserto è la mia prima partita quindi se perdiamo subito non è colpa mia devo un po capire come che funziona questa parte di mappa qui vedi qui ci sta uno l'abbiamo già ucciso perché non ha le armi ecco abbiamo ucciso uno come ti sembra bello ma insomma commenta un po' di quello che ti viene di dire è un po' diciamo accusato dell'omicidio quel signore perché sì infatti vabbè non è che è omicidio questo è comunque un gioco comunque ho capito che è un gioco insomma ecco vedi abbiamo ammazzato un altro si rivive un po' il passato esatto bravo bravo riviviamo tutti quanti nel passato direi che ci sono poi vedi in questo gioco puoi fare i muri vedi così abiti di chiamare il costruttore che fa i muri cioè tu puoi costruire come vuoi ho capito basta basta non ho costruito di di case di cose ma non basta e perché dobbiamo costruirla eh sì perché qui ci sono i nemici che ci sparano e tu devi costruire per ripararti capito perché se non ti ripari poi ti ammazzano e ti ammazzano e muori e poi devi ricominciare da capo e finisce e finisce la partita la partita ho capito capito comunque ragazzi fateci sapere perché io non ho me che vogliamo sapere se ecco appunto vedi sono morto perché è arrivato uno da dietro e non si va mai da dietro perché è brutto sì sì e te come ti sentiresti se uno ti prende da dietro beh ti senti tradito bravo ma ora come cosa abbiamo sbloccato vedi il motociclista la palla vede tutto a loro che ci stanno guardando di mettere mi piace al video quindi mettetevi tutto mi piace al video fateci sapere fatemi sapere se vi piacciono le skin tutto quello che abbiamo comprato mi racconta ragazzi perché hanno fatto una pazzia letteralmente pazza aver comprato tutto tutto quanto subito quindi io non ho me che vogliamo fare altri video insieme a voi magari tu vorresti comprare qui c'è un altro un'altra parte dove si compra qui ci sono altre un'altra parte di negozio vorresti comprare tutta questa parte pure prendiamo è dillo a loro che vorresti si prendiamo prima esatto prima tre mi piace facciamo un altro video con un omega sia su gta sia dove compriamo magari tutto negozi di forse quindi fatemi sapere se vi piace queste idee tutto il resto ragazzi perché comunque penso che mi ha fatto una cosa abbastanza pasta a comprare tutto quindi io direi che per questo video è tutto fatemi sapere se vi piace se vi piaciuto video nei commenti se vorreste altro poi omega vai saluta come come vorresti salutarli così così noi ci sentiamo al prossimo video amichevo amichevo ciao 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 ciao